Soccorso terremotati in Irpinia, settembre 1980. Foto, audio, video, mixer, musica di Walter Giusti. Terremoto nell'Irpinia, 23 settembre 1980. Colonna di soccorso di Pisa, con generi alimentari, medicinali, coperte, abiti, invernali. Volontari della protezione civile, infermieri e medici. Punto assistenza a Sant'Angelo dei Lombardi, centro raccolta e distribuzione. Dei volontari del comune e della provincia di Pisa. Dieci interminabili giorni. Non c'era tempo per le fotografie. In quei momenti, a Sant'Angelo dei Lombardi. Nisti, 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 nsi. In that podcast all'Irpinia. Nisti, 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 nisti. book. 목 no bellini. businesses kingdom care. In that podcast all'Irpinia, aveteрать King credit card. In that podcast all'Irpinia, 70ärazioni videoconferi. Nadia 세상 d persuasini. Grazie a tutti.